Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. È stata uccisa e il suo corpo è stato dato in pasto ai maiali. Maria Chindamo, l'imprenditrice di 42 anni scomparsa all'Invadi, Vibo Valencia, il 6 maggio del 2016. E quanto è emerso dall'inchiesta maestrale Cartago, condotta dalla DDA di Catanzaro, di cui oggi è stata condotta una seconda tranche con l'arresto di 84 persone da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valencia. Ad uccidere Maria Chindamo, il cui corpo fu fatto sparire dandolo in pasto ai maiali, sarebbe stato, secondo le rivelazioni di alcuni collaboratori di giustizia, Salvatore Ascone, di 57 anni, arrestato nel blitz di oggi dei carabinieri. Dall'inchiesta è emerso, in particolare, che l'imprenditrice è stata fatta sparire per la relazione sentimentale che aveva avviato con Vincenzo Puntoriero, avvenuto nel 2015. Ascone avrebbe commesso tutto insieme ad altre due persone, una delle quali era all'epoca minorenne mentre l'altra è nel frattempo deceduta. Avrebbe avuto inoltre come movente l'interesse di alcune cosche d'indrangheta del Vibonese per alcuni terreni di cui l'imprenditrice aveva acquisito la proprietà.